Bloccato prima ancora che avesse inizio un rave party che era stato organizzato naturalmente in maniera abusiva nelle campagne di Mazzarino. Il tutto grazie a un blitz dei poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e dei colleghi del commissariato di Niscemi, i quali avevano scoperto l'organizzazione dell'evento grazie ai controlli continui dei social network, visto che eventi abusivi di questo genere vengono messi su grazie a un continuo passaparola sul web. Centinaia le persone pronte ad assistere al rave che aveva come sede un'area di contrada rafforosso in prossimità della diga Cimia, come detto, nelle campagne del territorio di Mazzarino. I poliziotti sono però arrivati prontamente ed hanno sorprese d'identificato oltre 70 di loro, che erano arrivati sul posto utilizzando camper e altri mezzi. Non solo siciliani tra i presenti, ma anche altra gente proveniente da fuori dell'isola, soprattutto da Liguria e Piemonte. Almeno altre 100 persone stavano arrivando in auto, ma sono state bloccate dai poliziotti che avevano circondato la zona per evitare nuovi accessi all'area. Nel ruogo del rave era già stato allestito un palco con un impianto di amplificazione alimentato da gruppi elettrogeni ed erano state preparate numerose tende in tutta l'area circostante. Le operazioni di sgombero sono state disposte immediatamente dal questore. Il prefetto ha seguito costantemente l'evolversi della situazione. Circa 70 i poliziotti impiegati, 40 della questura e 30 dei reparti mobili, oltre a pattuglie e numerosi militari dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, componenti dell'unità dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e personale dei vigili del fuoco, per garantire le fasi delle operazioni di identificazione e sgombero. Tutta l'area è stata circondata e presidiata e sono state bloccate, con l'intervento della polizia stradale e dei carabinieri, le vie di accesso circostanti, grazie anche all'allestimento di posti di controllo in tutte le strade provinciali e statali che conducevano al sito. Intervenuta anche la polizia stradale di Palermo e i poliziotti delle questure delle province limitrofe. È intervenuto anche un elicottero della polizia di stato del quarto reparto volo di Palermo per la vigilanza aerea del luogo. Molti degli identificati avevano già partecipato ad altri rave party abusivi in diverse regioni del territorio nazionale. Lo sgombero dell'area si è svolto tranquillamente. Grazie ti, grazie a tutti.